Ciao a tutti ragazzi ed eccoci per il terzo e il quarto quarto più 5 Detroit contro i New York Knicks Raguzzi è pronto ad entrare, vediamo un'azione di New York che adesso è più 1 New York, J.R. Smith Schumpert, una match 3 mile, time out J.R. Smith va a dare 5 ai suoi compagni, è arrivato il suo momento Si parla molto, si parla molto dei loro, guardate il leader Smith Si fa sentire Sean Larkin, wow ragazzi, lo faccio fuori Imprazione di campo Coach nel New York Knicks, è nero, nero nel senso incazzato Dai con sto baggy di merda Movimento del Nagus Bella, bella Pierre Come on Doppia cifra, 10 punti Ha lasciato sotto così Carmelo Non si lascia solo così Carmelo Che squadra di merda Che squadra di merda Ah, solo fa sfuggire il Nagus Quello di Gray Cazzo Mette la prima Che squadra di merda Che squadra di merda Che squadra di merda Mette la prima Mette la prima Attenzione Bravo Singler Tine nel terzo quarto Più 5 New York contro Detroit Ritorni in panchiera Nagus Vediamo quanto rilascerà Ci penso io, sì Dai Nagus, dai Più 5 New York Javis Dai, che con Drummond che rientra Non c'è solo Drummond C'è anche l'altro L'800 alla grande Che può veramente Che loro possono fare la differenza Con il mercato l'anno prossimo L'importante Visto che Al draft Saremo i secondi a scegliere Al primo giro Perché mi sembra che siamo ottenuti Prigioni in argentina Per Jared Smith No, non è Jared Smith È Smith Prigioni Buona la difesa del Nagus Woods E va a commettere fallo Un fallo del Nagus Vediamo che Il compagno li dice Torza prima Scala prima Che non ti trovi in questa situazione Ha ragione C'è comunque Si parla molto in casa Detroit Franchise in crisi Non era Detroit Degli anni 80 Vediamo una città che ormai è quasi morta Però sono in NBA Devo accettare tutto Ah, peccato Carmelo Anthony against Butler Stoudemire Sette la pick For Anthony Ma cazzo L'ha messo L'ha messo a marcare Stada Ma non ci credo Ma è enorme Rispetto a me Più 6 New York 3 minuti Al termine Della partita Ah, peccato Buon giropalla Da parte di Detroit Fallo di Smith Su Omar Stada ma Rivediamo Omar Da una lunetta Primo tiro libero Cazzo Sette Butler Qui va atto New York Stai Da la 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 Primo tiro Bravo Pier Bravo Pier Bravo Pier New York New York Ha avvicinato The three point bug They're taking 15 shots Outside the arc Six of 15 12 punto rimbalza due assi partita NBA vai ma dammela che c'ho il tiro vabbè però ragazzi porca proia non dipendete un cazzo io il mio uomo per i umani ce l'ho sempre certo ma intanto mi salta è giusto che sia più 8 New York Knicks ritorna in panca Naguzzi si gioca all'ultimo minuto più 10 New York ecco Detroit è completamente uno squadro a sbaraglio fallo 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 bravo bravo ragazzi fallo di Schumpert mette il primo dentro prigioni è stata ma 2 su 2 per il Naguz attenzione non diamogli la possibilità di entrare eeeh Carmelo praticamente sulla sirena stagione sfortunata per Detroit cioè totalmente quello che è bravissimo bravo 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 fallo di Schumpert bravo bravo grai oh grey due tiri liberi per lui mette il primo dentro Bynum è Caldwell Pope come alla piccola ah eeeh peccato peccato bravo più bravo bravo che cresce partita dopo partita perdiamo di 10 va bene ragazzi le squadre rientrano negli spoglitori intervista a carmelo anthony rischietta partita del nugget signori il gioco è fantastico ovviamente ci devo prendere la mano perché io ho fatto il passaggio ci giocavo l'anno scorso NBA 2K14 su xbox 360 quest'anno lo gioco su playstation 4 devo prenderci un attimino la mano il gioco è poi diverso è molto bello l'unica pecca l'unica pecca un po' un po' lento nei salvataggi nel caricare le cose ma capisco anche che c'è veramente un tifone di roba da caricare ogni volta tra anche perché la carriera è molto 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 bella perché si vedono comunque varie attività dall'allenamento agli incontri in casa cioè c'è una sorta di piccola storia fatta veramente bene questo è tutto signori al prossimo video un abbraccio ciao a tutti dal nugget hua